Questa è la mia storia. Anzi no, questa è la loro storia. La storia di un gruppo, un team, una famiglia pronta a sostenersi ed aiutarsi in ogni situazione. Era la prima volta che lavoravo qui. E diciamocelo, cosa mai sarebbe potuto andare storto? No! Porca pupazza. E mentre l'attenzione in cucina era rivolta verso di me, in sala faceva il suo ingresso un cliente molto particolare. Le cose probabilmente stavano per peggiorare. Buonasera, mi dica. Un tavolo per uno? Certo, mi segua pure. Grazie. Perfetto, gentilissimo, grazie mille. A lei, a lei, molte grazie. Chef, comanda. Allora, cinque taglieri di salumi, cinque amici su una piatta di sale e dieci polpette sorpresi al tavolo sette e al tavolo oltre. E' di chiudo la base? Eh no, al tavolo tre c'è il critico gastronomico di cui stanno parlato tutti il paese. Quindi, mi raccomando, un tagliere di salumi e formaggi in là e una polpetta sorpresa. E' polpetta? Dimmi c'è compreso. Ma siamo sicuri sia lui? Cioè, voi comprete così, da solo, buttar qui nella pelle? Sì, ragazzi, credo sia proprio lui. Una cosa era certa. Eravamo proprio nei guai. Grazie. 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 Grazie.